siamo bene che palla welcome to the jungle amici miei bentornati su pimpio come sono sabato come sempre come state spero tutto bene ragazzi oggi torneremo con il capitolo 11 della magia di ritorno farò un piccolo spoiler io l'ho letto tutto perché sono andato in vacanza per questo il canale è andato un po in modalità inattiva e quindi l'ho letto in spiaggia ci ho messo qualche giorno non come gli altri ma ci ho messo qualche giorno per leggerlo devo dire che è molto interessante ragazzi poi a fine a fine libro vi dirò anche la mia sulla diciamo tra virgolette recensione ma anche se è un parere mio molto personale quindi io vi direi di seguirlo perché ha degli spunti molto particolari da qui in avanti io passerei direttamente alla lettura non perderei troppo in chiacchiere poi voglio farmi un ulteriore aggiornamento a leggere un capitolo a video anche se verranno un po più lunghi perché mi sono accorto che comunque dividere il capitolo in tante parti è noioso sia per voi che dovete poi seguire parte per parte sia per me che è brutto proprio come come di suddivisione lo facevo solamente per non far uscire video troppo lunghi però mi raccolgo ragazzi che alla fine è meglio un video più lungo con un capitolo intero dove si può mettere in pausa poi riprendere dopo così altrimenti è brutto passerei direttamente al capitolo andiamo interessante mi disse boven durante la nostra seduta di quel lunedì eravamo seduti al tavolo da pranzo che avevo riportato dentro davanti a due bicchieri di acqua e ghiaccio era arrivato da quasi un'ora gli avevo fatto fare il giro della proprietà e della casa gli avevo mostrato le erni da lontano senza propogli la visita completa che avevo regalato a natale e la barca all'inizio della seduta ero partito come al solito aggiornando sui vari argomenti legati al dsdp per poi raccontargli del mio appuntamento con natali gli avevo detto praticamente tutto tralasciando solo i particolari intimi tutto qui chiesi interessante che cosa vorresti che dicessi non saprei qualcosa qualunque cosa boven si portò una mano al mento credi di essere veramente innamorato di lei si senza dubbio vi conoscete solo da due settimane mio nonno si innamorò della nonna la prima volta che si parlarono ribattei a non del vero mi era posto la stessa domanda per tutta la mattina lei è diversa da qualsiasi donna che ho conosciuto finora proseguì so che non è razionale però sì la amo saresti disposto a rinunciare all'internato per lei sì risposi interessante ribatte lui il tono neutro e la risposta evasiva di boven erano a dir poco irritanti non mi crede certo che ti credo ma c'è qualcosa che la preoccupa vero a te no ovviamente sapevo benissimo che a cosa si riferiva intende l'altro tizio dissi in effetti aggiunge delle complicazioni potenzialmente insuperabili me ne occhiali sulla base di ciò che mi hai raccontato deve essere vero lo pensa anche lei non mi sorprenderebbe a volte tendi a sottovalutare la percezione che gli altri hanno di te sei giovane intelligente ricco di successo e c'è chi ti considererebbe un eroe per il servizio reso al paese accidenti grazie doc figurati tuttavia quello che volevo sottolineare è che sebbene non abbia difficoltà a immaginare che una donna possa innamorarsi di te ciò non significa necessariamente che per lei non sia complicato né che la relazione andrà avanti come speri gli esseri umani sono complessi la vita raramente prende la piega che vorremmo e le emozioni possono essere contraddittorie da quello che mi hai raccontato mi sembra che lei stesse cercando di farti capire che era combattuta riguardo alla vostra relazione finché non risolverà questo conflitto potrebbe essere un problema bevi un sorso d'acqua riflettendo su ciò che buoni mi aveva appena detto che cosa dovrei fare chiesi infine a che proposito riguardo a natalie risposi consapevole dell'irritazione della mia voce come dovrei prendere la sua relazione con l'altro boven alzò un sopracciglio non disse niente aspettando che fossi a rispondere alla mia domanda mi conosceva abbastanza bene da sapere che alla fine avrei trovato una soluzione e così fu devo accettare il fatto che non posso controllare un'altra persona recitai posso controllare solo i miei comportamenti esatto boven sorrise ma ho il sospetto che questo non ti faccia sentire meglio no pensai per niente cresci qualche respiro profondo avrei voluto che non fosse la verità poi ripete parte di ciò che avevo imparato nelle nostre sedute precedenti ora mi dirà che per il momento devo sforzarmi di essere la migliore versione di me stesso devo dormire allenarmi mangiare sano e limitare tutto ciò che influisce sull'umore ricorrere alle terapie comportamentali quando ne sento il bisogno tutte queste cose le so e le metto in pratica quello che vorrei sapere è che cosa dovrei fare con natali per non impazzire di ansia boven non mostrò di aver colto l'emozione che mi inclinava la voce si strinzi nelle spalle con l'atteggiamento serafico che usava sempre con me che cosa potrei fare diverso da ciò che stai facendo ma io la amo lo so non so nemmeno se vive con lui o ci esce ogni ogni tanto boven sembrava quasi triste lo vuoi sapere veramente il giorno dopo mentre guidavo sulla strada continuavo a rimugirare sul mio colloquio con il dottor boven sapevo ciò che desideravo che natali monlasse l'altro ma io ero solo alla metà dell'equazione se non addirittura un terzo il che era persino peggio a volte credo che il mondo funzionerebbe meglio se avessi il potere di controllare tutte le persone però conoscendomi è probabile che mi stancherei di questa responsabilità avevo ucciso il gps anche se probabilmente non mi sarebbe servito fino alla fine del confine con il sud carolina il tragitto fin là era semplice avrei dovuto seguire la statale 70 per poi imboccare la interstatale 40 nei pressi di riley quindi la 85 a gransboro attraversare charlotte entrare nel sul carolina e proseguire fino a granville il computer aveva calcolato che si è arrivato a destinazione tra l'una e le due del pomeriggio e io speravo di avere abbastanza tempo per trovare qualche risposta la strada era dritta pianeggiante e si snodava tra campi coltivati e foreste nei pressi delle città il traffico aumentava senza però raggiungere le proporzioni della zona di dc dove ero cresciuto mentre guidavo cercavo di immaginare il nono sulla stessa strada ma non ci riuscivo il suo pick up vibrava e ondeggiava sopra i 75 orari e andare troppo piano sull'interstatale era pericolosa inoltre alla sua età di sicuro si rendeva conto di non avere più la vista e i riflessi di un tempo più ci pensavo più mi sembrava plausibile che avesse invece scelto le strade meno battute a una sola corsia avrebbe impiegato più tempo e secondo me ci avrebbe messo due giorni per arrivare a easley mi fermai a mangiare a sud di charlotte poi ripresi il viaggio secondo il gps l'ente statale 85 incrociava la superstrada 123 a granville e da lì avrei proseguito fino a destinazione prima di partire avevo scoperto che la 123 portava anche alla clemson university un po più a ovest e questo mi aveva indotto a domandarmi se elen fosse una studentessa il nonno quel vecchiaccio magari se la intendeva con una ragazza era un'idea assurna ma dopo più di sei ore al volante mi feci scoppiare a ridere trovai la 123 senza problemi mi preparai a percorrere l'ultimo tratto del viaggio e a 5 minuti dall'arrivo cominciai a cercare i cartelli segna miglia immaginavo che se si fosse sentito male più a est sarebbe stato trasportato a granville una città più grande e con più ospedali arrivato alla periferia di easley mi tornarono in mente dei ricordi ma non legate alla città non vedevo niente di familiare non ricordavo neppure il tragitto fatto per raggiungere l'ospedale preoccupato come ero per il nonno notai infine il cartello con il numero 9 e rallentai sfruttando entrambi i lati della strada qui non si vedevano solo boschi o campi coltivati come del resto del viaggio c'erano case e banchi dei pegni rivenditori di autosate sfascia carrozze stazioni di servizio e persino un antiquario era uno spettacolo sconfortante ci sarebbero voluti giorni se non settimane per trovare qualcuno in quelle case in quelle attività commerciali che ricordassero mio nonno a più di sei mesi di distanza per non parlare poi di incontrare qualcuno disponibile a darmi qualche consiglio utile sebbene fosse deciso a svelare il mistero non avevo intenzione di imbarcarmi in un'impresa del genere e soprattutto era valsa davvero la pena fare quel viaggio tuttavia superato il cartello con il numero 8 il mio cuore accelerò i battati sulla destra c'era una war for us mio nonno era un grande appassionato di questa catena di ristoranti e poi all'incirco un minuto dopo un'insegna più piccola sull'altra careggiata che reclamizzava l'evergreen motel dagli studi di medicina ricordavo che gli ictus colpivano soprattutto durante due finestre temporali di un paio di ore ciascuna nel corso della giornata la prima al mattino e la seconda alla sera e considerando l'orario in cui normalmente il nonno si svegliava un'eventuale colazione alla wall for house e l'orario di arrivo in ospedale era assai probabile che si trattasse proprio del motel in cui aveva pernottato la mia ipotesi trovava conferma man mano che mi avvicinavo vidi la scena che avevo già osservato su google art e nella vita reale aveva più senso quella che mi era apparsa un'area commerciale era in realtà un vecchio hotel proprio dietro il cartello del miglio set uno di quei posti in cui preferibilmente si paga in contanti l'ideale per il nonno che non aveva carte di credito e soprattutto non mi era difficile immaginarlo in un ambiente del genere un edificio a ferro di cavallo a un piano con una decina di camere in totale l'esterno colore verde scuro si era sbiadito nel corso del tempo e davanti alle porte delle camere c'erano alcune sedie a dondolo dall'area decrepita senza dubbio collegate lì per rendere più accogliente il posto era un misto tra casa del nonno e click in post e me lo vedevo sospirare di solivo quando ci si era imbattuto un'insegna a una delle finestre più vicine alla strada indicava l'ufficio e io mi fermai lì davanti c'erano solo tre macchine nel parcheggio ma mi sembravano comunque troppe l'orario del check out era ormai passato il che significava che gli occupanti delle camere avevano deciso di fermarsi per più di una notte cosa che trovavo difficile da credere oppure pagavano ore per un'avventura del pomeriggio cosa che mi pareva più probabile in ogni caso non aspettavo a me giudicarli apri una porta zanzalera cingolante senti il trillio di un campanello ed entrai nell'ufficio piccolo e fiocamente illuminato con un balcone alto sul davanti sulla parete c'erano dei ganci con le chiavi delle stanze appese a portachiavi di plastica dalla porta alle spalle del bancone parzialmente nascosta da una tenda di perline proveniva il sonoro di un televisore a tutto volume l'audio fu abbassato e una donna piccola di statura con i capelli rossi uscita dietro la tenda poteva avere dai 30 e 50 anni sembrava delusa come se il mio arrivo l'avesse strappato dalla sua unica fonte di svago sul lavoro vale a dire la tv vuole una stanza no risposi ma pensavo che potesse aiutarmi le fece un aveva riassunto delle informazioni che speravo di ottenere mentre parlavo il suo sguardo si sposta dalla mano mutilata alla cicatrice che aveva in faccia la sua espressione era palesemente incuriosita e invece di rispondere mi domandò esercito marina risposi mio fratello era nell'esercito disse è stato in iraq tre volte missioni toste io ero in afghanistan nemmeno quella è stata una passeggiata è vero concordai ma almeno non ci sono stato tre volte a questo punto sorrise per la prima volta che cosa mi stava dicendo di suo nonno le spiega di nuovo la situazione aggiungendo che secondo l'ambulanza si era sentito male vicino al cartello segna miglia proprio fuori all'ingresso di mattina presto pertanto era possibile che avesse pernottato all'evergreen speravo che potesse controllare sul registro quando è stato le forni la data e lei scosse la testa mi dispiace molto vorrei aiutarla ma dovrà chiedere a bo non posso mostrare il registro a nessuno senza un mandato potrei perdere il lavoro bo è il proprietario il direttore spiegò gestisce questo posto per un suo zio che sta nel west virginia ha il numero di telefono sì ma non deve disturbarlo sta dormendo ora non gli piace essere svegliato lavora di notte dalle otto alle otto se avessi fatto lo stesso orario nemmeno gli avrei voluto essere disturbato per caso sa qualcosa sul mio nonno era di turno lei quando è arrivato forse le ha raccontato qualcosa tamburello la dita sul bancone ricordo di un vecchio che era stato caricato su un'ambulanza proprio qui nel parcheggio forse si trattava di lui oppure no negli ultimi anni sono morte diverse persone perciò le confondo sempre in genere per infarto una volta ci fu un suicidio mi chiesi se fosse tipico di questo posto o dei motel e degli hotel in generale stasera bo verrà a lavorare sì rispose la donna con un cenno affermativo non si lasci scoraggiare quando lo incontrerà ha un'area un po scontrosa ma è un tipo a posto è di buon cuore la ringrazio per l'aiuto non ho fatto molto però posso lasciare un biglietto a bo spiegandogli chi è lei e come può aiutarla grazie come ha detto che si chiama trevor benson io sono maggie grazie per il servizio che ho reso al paese e mi dispiace di non esserle stata di grande aiuto avendo parecchie ore da recuperare tornai a granville e trascorso un po di tempo da barnes e noble poi mangiare una bistecca da roots chris immaginando di dovermi fermare anche la notte per notare una stanza al marriott l'evergreen poteva andare bene per gli standard del nonno ma io preferivo qualcosa di più raffinato ritornai al motel alle 8 e un quarto faceva buio e con i fari illuminai i quattro macchine nel parcheggio non erano le stesse di prima gli amanti del pomeriggio se ne erano andati posteggiai nello stesso posto ed entrai nell'ufficio il televisore era sempre acceso a tutto volume e poco dopo bo usci dalla stanza sul retro come lo vedi mi torna in mente quello che mi aveva detto maggie il tipo che venne al bancone aveva esattamente l'aspetto di uno che faceva il turno di notte in un posto come l'evergreen motel su una superstrata tranquilla in mezzo al nulla doveva avere la mia età forse addirittura più giovane magrissimo con una barbetta ispide e una chioma che probabilmente non l'aveva da una settimana indossava una maglietta bianca macchiata e una catena al passante della cintura con la gaccia del portafoglio aveva un'espressione a metà tra l'indifferente e lo scontento e l'alito che sapeva di birra lei è boh si pulì il mento con il che doveva aiutarla perché è un veterano una cosa che riguarda suo nonno gli raccontai la storia da capo prima che finissi cominciò ad annuire sì me lo ricordo era un molto vecchio no guidava un pick up malandato direi che sembra proprio lui tirò fuori un'agenda da sotto il bancone la sfogliò quando è stato glielo dissi e lui iniziò a consultare le pagine all'indietro il fatto è che chiediamo un documento solo se pagano con carta di credito con i contanti e la cauzione per la chiave non facciamo la registrazione ci sono un sacco di john do da queste parti perciò non posso garantirle niente la cosa non mi sorprende sono sicuro che abbia usato il suo vero nome lui continuava a sfogliare all'indietro e finalmente arrivò alla data giusta come ha detto che si chiamava car e verso eccolo ha pagato in contanti per una notte ha restituito la chiave gli è stata ridata la cauzione si ricorda si ha detto qualcosa dove era diretto in questo non posso aiutarla mi dispiace faccio un po di confusione con tutti i clienti che arrivano capirà può dirmi che cosa si ricorda l'ho trovato io rispose era sul pick up con il motore acceso non ho idea da quanto tempo fosse lì ma so di aver guardato fuori dalla finestra aver visto il pick up pronto per immettersi sulla superstrada un paio di minuti dopo era sempre lì me lo ricordo perché faceva un sacco di fumo e comunque bloccava l'uscita così sono andato fuori stavo per bussargli sul finestrino ma l'ho visto piegato sul volante ho aperto la portiera e non aveva un bell'aspetto non sapevo se fosse morto oppure vivo così ho chiamato i soccorsi è arrivata la polizia con l'ambulanza e hanno rianimato e poi caricato a bordo a quel punto era ancora vivo ma poi non l'ho più visto quando ebbe finito di raccontare guardai fuori dalla finestra per visualizzare la scena scontroso no boom era stato d'aiuto sa che ne è stato del suo pick up in parte e cioè ho chiesto lo sceriffo se potevo spostarlo perché bloccava l'uscita come le ho detto era ancora acceso ma lui mi ha risposto di farlo pure e poi di mettere le chiavi in una busta casomai il tizio fosse tornato così ho spostato il pick up nel parcheggio in fondo e ho fatto come mi era stato detto le chiavi ce n'è ancora lei lui scosse la testa no come mai non voglio finire nei guai ho aspettato un paio di settimane per vedere se tornava suo nonno intendo ma non l'ha fatto e io non ho avuto più notizie non sono arrabbiato con lei gli assicurai e non è nei guai sto solo cercando di rintracciare il pick up nella remota ipotesi che a bordo ci fosse qualcosa che mi possa indicare dove era diretto lui mi scutò in viso lo zio mi ha detto di farlo portare via ha mise infine ho dato le chiavi al tizio del carro attrezzi ricorda per caso il nome ajs rispose ajs towings probabilmente era troppo tardi per andare da ajs così tornai al marriott a granville mi feci una doccia guardai un film sulla tv a pagamento poi mi infilai a letto pesi il cellulare e scrissi un messaggio a natali ciao è stato un viaggio massacrante ma sono felice di essere venuto ho scoperto delle cose ho saputo che il pick up è stato portato via me ne occuperò domani ti amo troppo stanco per riscrivere se mi avesse risposto misi il cellulare in modalità silenzioso e spensi la luce mi andormenta nel giro di pochi minuti e l'ultimo pensiero consapevole fu ancora una volta dove era diretto il nonno il mattino seguente non trovo i messaggi di natali dopo la colazione mi chiesi se fosse meglio chiamare ajs per telefono presentarmi direttamente all'officina scelsi la seconda opzione il gps mi guidò nella zona industriale di isli ma pur arrivando all'indirizzo giusto non vedi insegni che ricassero il nome dell'attività nel scorsi l'ingresso di un ufficio trovai invece un ampio prefabbicato rettangolare con tre grandi saracinesche in mezzo a un cortile asfaltato pieno di buche recintato da una rete metallica c'era un cancello d'ingresso però era chiuso con una catena e un lucchetto sull'altro lato del cortile scorsi tre macchine impolverate parcheggiate in fila in giro non c'era anima viva era un orario di lavoro ma a pensarci bene era logico che fosse chiuso a meno che qualcuno non dovesse recuperare un veicolo sequestrato non c'era motivo di tenere aperto un ufficio né di avere una persona che rispondisse al telefono probabilmente il numero dell'attività commerciale era collegato a un cellulare lo composi lo senti squillare e dopo aver ascoltato la voce burbera registrata da aj lasciai un breve messaggio spiegando quali informazioni cercavo e chiedendogli di richiamare non avendo molto altro da fare se non aspettare giranzolai un po per easily che si rivela più graziosa di quanto mi aspettassi mi trovai a passare di nuovo davanti all'ospedale e senza scendere dalla macchina rivolse un ringraziamento silenzioso alle brave persone che ci lavoravano negli ultimi giorni della sua vita il nonno era stato curato con premura da medici infermieri coscienziosi che si erano presi il disturbo di rintracciarmi a mezzogiorno tornai a granville e pranzai in centro in un locale che preparava una crema di granchio spettacolare ed era frequentato dalle impiegate dei dintorni avendo lasciato l'hotel rimasi seduto al ristorante finché mi senti in imbarazzo e allora andai a fare una passeggiata dopo tre ore non avevo ancora ricevuto nessuna notizia da aj poi le ore diventarono quattro e quindi cinque mi stavo chiedendo se non fosse il caso di tornare a new verna ma sentivo il bisogno di parlare faccia a faccia con aj e comunque anche se fossi partito subito non sarei arrivato a casa prima di mezzanotte tornai al meriot e prenotami per un'altra notte misi il cellulare sotto carica con la suoneria al massimo del volume e scrissi un altro messaggio a natali ti penso tornerò a casa domani nel pomeriggio cenai in un ristorante messicano raggiungibile a piedi dall'hotel sulla via di ritorno provai a richiamare aj questa volta mi dispose mi presentai spiegavo che avevo chiamato prima a proposito del pick up di mio nonno e dall'altra parte chiusero la conversazione forse aj aveva messo giù oppure era caduta la linea feci un altro tentativo e come era accaduto al mattino parti la segretaria telefonica così li agganciai in hotel mi sdraiai sul letto e riflettei sopra l'accaduto sembrava che per qualche misterioso motivo aj non volesse parlare con me non sapevo che cosa fare nel momento che non l'avevo trovato sul posto di lavoro e non conoscevo il suo cognome non avevo proprio idea di come raggiungerlo forse avrei potuto rintracciare la regione sociale della sua attività con il suo nome scritto sopra o magari chiamare gli uffici della contena e la speranza che mi fornissero un indirizzo ma in ogni caso mi avrebbe parlato se mi fossi presentato a casa sua oppure mi avrebbe sbattuto la porta in faccia a giudicare della sua reazione al telefono propendevo più per la seconda opzione valuta l'idea di di contattarlo per un intervento ma non appena avessi saputo la vera ragione della mia chiamata si sarebbe arrabbiato e sarebbe stato ancora meno disponibile di aiutarmi mi restavano solo tre opzioni potevo continuare a lasciare messaggi potevo rivolgermi all'avvocato oppure a un investigatore privato tutte queste cose avrei potuto sbrigare da da casa tutte queste cose avrei potuto sbrigare da casa e ci avrei pensato il mattino seguente inoltre volevo pensare a natale che stranamente non mi aveva risposto abbiamo finito anche questo capitolo 11 ragazzi la storia si sta andando diciamo verso la parte più movimentata diciamo così io comunque ragazzi anche se l'ho letto ho preferito comunque portarlo in video perché era importante per me per creare la serialità con voi e perché l'ho portato sul canale quindi ci tenevo tantissimo a iniziarlo e finirlo insieme a voi quindi l'abbiamo iniziato in live insieme poi proseguito per video e ci tenevo veramente tanto a concludere il progetto leggendolo interamente con voi io spero che si sia sentito bene e che non abbiate sentito troppi rumori di sottofondo come il treno che sta passando in questo dannato momento però è questa situazione raga quando registra a casa e non in un studio e io vi ricordo sempre ragazzi è molto importante di lasciare un bel pollice inizio di supporto è veramente molto molto importante abbiamo raggiunto i 2400 iscritti quindi tanta tanta roba ci vediamo presto quindi vi raccomando iscrizione condivisione e mi piace ciao